Questa è la nuova NaturAig CloudUp Wings 2, una tenda da trekking dalle ottime performance sia per quanto riguarda la resistenza al vento ma soprattutto la sua leggerezza. Adesso se ve ne vediamo pregi di fette all'interno della recensione completa. Il montaggio della tenda sarà veramente molto molto semplice, non dovremo fare altro che iniziare a stendere la tenda per terra ed iniziare picchettando tutti e quattro i picchetti laterali. A questo punto possiamo prendere la paleria che è preformata ed andare ad assemblarla in modo tale da costruire lo scheletro della tenda, inserendo la paleria negli appositi occhielli. Una volta fissata la paleria potremo congiungere il telo della tenda con la paleria che abbiamo montato in modo tale da andare a costruire la nostra tenda e infine aggiungere i picchetti e i tiranti rimasti. Inizio subito col farvi vedere la sua struttura esterna della tenda perché è una struttura molto particolare. Ha una struttura a ragno con uno snodo centrale, da cui partono i cinque paie della paleria. Questo le permette di avere sicuramente un'ottima stabilità in caso di forte vento ma di questo ne parliamo anche dopo. Iniziamo a vedere tutta la parte esterna iniziando da questa parte laterale perché qui troviamo il primo cordino da poter andare a utilizzare per andare a tensionare la tenda in modo tale sia da allargarne il catino interno sia da poter stabilizzarla in caso di forte vento, con anche la prima parte di paleria. Continuando, troviamo la prima parte laterale. Questa parte laterale è fatta molto bene e soprattutto mi piace che è sfruttabile nella parte bassa perché nella parte bassa si va a creare uno spazio che è isolato, anche l'eventuale pioggia, dove noi possiamo andare a riporre un qualche oggetto. Unica pecca, questi oggetti non potremo recuperarli da dentro, solamente dalla parte esterna. E sotto, nella parte sottostante, c'è anche il suo tirante. Voglio farvi vedere qua nella parte bassa della parte laterale come è fatto bene tutta la parte di tensionatura perché in questo caso, essendo che in questo punto c'è un'alta tensione, ecco che naturalmente è andata a mettere anche una doppia cucitura in modo tale da poter suddividere meglio tutta la tensione e evitare che la tenda si strappi. Devo dire, ma poi lo vediamo, che dal punto di vista delle cuciture questa tenda mi ha veramente sorpreso. Allo stesso modo, anche nella parte superiore dove va il tirante laterale, guardate com'è fatta bene tutta la cucitura. Si vede veramente bene come tutta la parte di tensionatura che è data dalla paleria viene ben distribuita su tutti i teli. In questo modo la tenda avrà una distribuzione uniforme di tutta la tensione e non andrà a strapparsi. Continuando arriviamo alla parte, diciamo, posteriore dove troviamo un primo tirante nella parte bassa con lo speculare anche dall'altra parte. La cosa che più mi è piaciuta di questa tenda sono le sue aperture per far uscire l'aria perché ne troviamo due nella parte posteriore che sono veramente una genialata perché avendole qua in questo punto vi assicuro che di condensa non ne avremo sono veramente poste nel punto perfetto per far uscire tutta l'aria anche perché, poi lo vediamo, essendoci nella parte davanti questo fa sì che si abbia un continuo flusso d'aria dalla parte avanti alla parte dietro o viceversa e l'aria all'interno veramente circola molto molto bene. Poi ne parliamo ma con queste aperture la condensa veramente non se ne ha. Continuando, dopo la parte posteriore dove naturalmente troviamo anche tutti i picchetti, la parte di palleria eccetera la parte laterale è speculare quella che abbiamo visto prima quindi abbiamo tutto il telo che scende dove sotto recuperiamo un pochino di spazio tutta la parte di palleria nella parte superiore anche qua le cuciture sono fatte veramente bene infine tornando praticamente nella parte anteriore qui troviamo la parte di palleria che scende che è speculare quello che abbiamo visto prima il suo tirante anche in questo caso per andare ad aprire la tenda ed è proprio simile da una tenda speculare infine eccoci arrivati nella parte anteriore qui abbiamo la sua porta che adesso andiamo a vedere nel dettaglio dunque parliamo della porta di questa Natural Cloud Up Wings 2 innanzitutto ne abbiamo solo una come abbiamo visto c'è solo presente questa qua davanti l'unica apertura è una tenda veramente grossa perché vado ad aprirvela e mentre vado ad aprirvela vi faccio vedere che sono presenti anche due strap in modo tale da andare a distribuire meglio la tensione della cerniera cerniera fatta molto molto bene che mai avuto problemi non si è impuntata nulla naturalmente il telo lo possiamo far su ed ecco che siamo andati a rivelare la nostra veranda una veranda abbastanza piccola diciamo che se abbiamo degli zaini ecco che magari nella parte esterna soprattutto se abbiamo zaini magari a 50 litri non ce ne stanno due una veranda dove anche cucinare in caso di pioggia è abbastanza difficile una veranda sicuramente magari più pensata per tenere fuori qualche scarpa qualche oggetto piccolo gli zaini come vedremo poi la tenda è veramente lunga quindi si possono tenere anche nella parte interna da questo punto di vista devo dire una veranda veramente minimal che svolge una funzione abbastanza essenziale ma per tenere qualche oggetto in più nella parte coperta che non vogliamo tenere all'interno vi ricordo che sono sempre gli absidi laterali lungo questo punto possiamo andare ad aprire la porta interna della tenda come vedete è fatta per il 90% da zanzariera solo la parte finale è fatta con un tessuto un pochino più resistente e da questo punto di vista una volta aperta è facilissimo andare a riporla in una taschina laterale in modo tale da averla sempre richiusa al suo posto eccoci dunque all'interno della tenda vi dico subito le sue dimensioni perché parliamo di una tenda che è lunga 2,20 m quindi veramente molto lunga alta 1,10 m nella parte più alta infatti io un pochino con la testa ci tocco quando sto seduto e in questo momento non ci sono neanche i materassini e poi è larga quasi 1,40 m nella parte superiore dove poi andrà la testa e solo 1,05 m nella parte inferiore dove invece andranno i piedi da questo punto di vista forse 1,05 m è un pochino troppo poco perché considerate che bisognerebbe utilizzare i materassini solo da 50 cm quando lo standard è da 60 cm c'è anche da dire però che i materassini non sono neanche così tanto lunghi quindi non arriveremo in punta con il materassino ma riusciamo a stare un pochino prima e il problema non si pone per quanto riguarda i materiali innanzitutto il telo esterno che abbiamo visto prima è un nylon 10D con 2000 colonne d'acqua di impermeabilità il telo sotto il catino è un nylon 20D quindi più resistente con 3000 colonne d'acqua per quanto riguarda poi la parte inferiore del catino in confezione viene dato anche un footprint quindi possiamo mettere sotto un ulteriore telo per andare a aumentarne sia la resistenza sia la parte di colonne d'acqua da questo punto di vista devo dire che a livello di prestazioni è abbastanza classica le colonne d'acqua sono sufficienti per fare del classico trekking magari non mi spingerei troppo in alto per quanto riguarda l'alpinismo ma in generale ci può stare venendo alle caratteristiche interne di questa tenda innanzitutto è una tenda monotelo monotelo perché in molte parti abbiamo un singolo telo soprattutto nella parte superiore del tetto nelle parti laterali invece abbiamo anche delle finestre delle finestre che sono fatte per metà in zanzariera quindi che ci permettono di areare per bene la camera ma nella parte bassa invece troviamo tutta una parte di tessuto fatto proprio in tessuto solido non zanzariera in questo modo questo ci permette di essere isolati da eventuale evento mi piace che troviamo due camere laterali perché vado ad aumentare ancora di più la reazione insieme alle bocche che abbiamo visto prima nella parte superiore che fanno uscire l'aria come vi dicevo a livello di condensa questa tenda davvero non ne ha pur essendo una monotelo ibrida diciamo davvero la condensa non è sicuramente un problema per questa tenda parlando di cuciture anche qua all'interno sono fatte veramente bene quelle superiori diciamo di tutta la parte delle pareti del tetto sono una doppia cucitura quindi veramente fatte bene quelle del catino sono doppie cuciture anche termosaldate quindi veramente ottime per quanto riguarda la vivibilità all'interno diciamo che di spazio non ce n'è tantissimo quando ci si dorme non è sicuramente un problema però già magari cambiarsi all'interno se sei alti un metro 90 come me ecco che magari non è proprio semplice dal punto di vista poi degli accessori che troviamo all'interno è una tenda veramente scarna perché non troviamo nessuna tasca dove riporre qualche oggetto davvero non ce n'è neanche una e secondo me questo può essere anche un po' un problema perché quanto gli costava mettere una tasca l'unica cosa che troviamo è il gancetto posto a una parte più alta della tenda per andare magari a prendere una torcia in modo tale da farci luce la notte però veramente a livello di feature è veramente molto molto scarno arriviamo dunque alle conclusioni per questa naturalica Cloud Up Wings 2 perché c'è ancora una caratteristica che non vi ho detto ed è il suo peso questa tenda pesa 1,4 kg con il footprint quindi noi volendo possiamo andare a togliere il sottotelo e questa tenda arriverà a pesare 1,2 kg 1,2 kg è veramente un peso esiguo veramente molto molto leggera questa tenda soprattutto visto anche il suo prezzo dove vi consiglio di utilizzarla innanzitutto diciamo che è una tenda perfetta per fare tutto l'escursionismo, il trekking è una tenda perfetta per chi fa del backpacking, alte vie, cammini tutto quello che veramente è dormire in tenda alla notte dove noi andiamo, posizioniamo la tenda la sera al mattino la smontiamo e la portiamo via perché anche come abbiamo visto montarla e smontarla è veramente semplice non ve la consiglio se invece state cercando un qualcosa magari per stare a bassa bassa quota perché in quel caso ha un'ottima ventilazione però è comunque una monotelo e soprattutto non fateci alpinismo perché è una tenda che non è autoportante per quanto riguarda infine il prezzo di queste Natural Wings ce ne sono diversi tipi varia in base al modello che volete prendere io ho preso la più economica che sta sui 170-180 euro secondo me è già un'ottima tenda per chi vuol fare delle alte vie, del backpacking e soprattutto vuole una tenda leggera due posti senza spendere troppo perché veramente la si trova facilmente sotto i 200 euro e soprattutto anche full print è incluso che è una cosa che oggi è veramente rara solo un natural che lo fa e detto ciò ragazzi non spero non ci sia stato io sicuramente lo sostengo anche per questa recensione vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima ciao